Carlo Rosso, Carlo Giuseppe Rosso e Pianzino Ricordo che il Gino Giuseppe è stato fatto così, sono i minori, i primi anni, il 2012, il 2013 e si è confermato anche quest'anno, un applauso, grazie Arbitro di incontro, signor Arbitro Bracker Tu c'hai messo in campo? Pura così? Vino che devo dimostrare il loro dopo, questo qua Il tuo migliorare E mi è meglio E la qualità così non si deve dire qua, come lì E chi è preparato i ragazzi profumati? Questa, o quella grande Se adesso non lo vedi Pochi secondi per la prima intesa Grazie 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 Grazie. 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 Buoni secondi, seconda ripresa. Grazie. 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 Vai, 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 vai. Grazie. Grazie a tutti. Con i secondi, terza ed ultima ripresa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.